Dio Dio No! Joder, macho! Martino? Martino. La prima bota l'abbiamo dato, no? No, no la prima, no! La prima bota l'abbiamo da Alex Rins, a Polis Bargero, ha messo l'abbiamo all'interno. Tranquilo, tranquilo! Allora passiamo a Rins, che ha il botoncito del power. Allora passiamo a Rins, ora puoi essere. Come a Fred d'Alesser. Il seguito sta aguantando. Siamo con la mia in la bocca o no? Il Mire lo va a intentar in la ultima volta, però fiii! No, no, no! Ha ido a largo, ha ido a largo, ha ido a largo! No, per una pu... Non può essere, che lastima! Entra! Vula ha la linea interna! Come with us, come with us! Come with us! Come with us! Elesser Spargero, Oh no, come back! Come, come! Come, come! Come, come, come! Elesser Spargero Que le avvino otterranno Per il premio del chewing per la Croca ippo di Prodini Eser! Fabio Quattararo è il gioco british corpore, Alex Rins è tornato in seconda e Alessia Spargaro guarda per prendere Caprilea's first podium in the modern MotoGP area. A presto, a presto, a presto. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.